Stiamo facendo anche prove che a noi interessano moltissimo, del loro valore anche economico, sociale, potenziale, sui vigneti in particolare. Una viticoltura eroica, ma se pensiamo all'Alto Garda, quant'è importante l'olivicoltura e quant'è eroica l'olivicoltura anche su quel territorio. L'olivicoltura eroica, ma se pensiamo all'Alto Garda, quant'è importante l'olivicoltura e quant'è eroica l'olivicoltura anche su quel territorio.